Domenica 15 Sì, a me mi fai un cappuccio di latte di soglia, grazie. Ma tu sarai qui, guarderai fuori, guarderai tutti i culi delle podiste, di la verità. Ma cos'è un giro posto? Eh? Quattro chilometri, ma è... Da sopra sono davanti... Sono quattro... sono quattro chilometri! Dai vieni Silvia che ha meno... Silvia vieni qua che ha filo scerba, che sto riprendendo il culo del nano, non mi sembra il caso. Filo scerba basta. Ed ecco con lei che correrà per noi il 15 febbraio, diglio Silvia. Figlia! Ti stai... ma scusa, dove sono le scarpe da... Ma che sono le scarpe da running? Da rane, eh? Eh... Ma non mi sembra... fai vedere le scarpe? Fai vedere, fai vedere... Mmm... poco running Silvia! Dici che... Va bene... Eh va bene... Allora dai... Che cazzo! Facciamo così... Di... Come l'anno scorso e anche quest'anno non farò la cosa... Esatto, ma sempre lavoro... Ah... Allora... Lei sarà qui... A preparare caffè e colazioni e tutto... Esattamente! Ad accoglierci caldamente... Per tutti i bellissimi quotidiori... E quando ci vedrai correre cosa penserai? Non lo puoi dire! Ma che bravi che sono!